Sono più di 100 i partners che hanno dato adesione al Calabria Day targato 2013, 103 nello specifico tra aziende, associazioni culturali, enti pubblici, cooperative e sociali che hanno scelto per la giornata del 26 ottobre a Castrovilleri di sottoscrivere il manifesto di idee realizzato dall'associazione Io resto in Calabria. L'annuncio è giunto nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta nel capoluogo del Pullino lo scorso 18 ottobre. La Calabria in positivo, quella mostrata attraverso racconti buoni che l'associazione da tre anni a questa parte ha deciso di restituire ai calabresi. Innovazione, successi e buone pratiche che la Calabria è in grado di produrre ricorderanno le potenzialità dunque di una regione che non è solo disoccupazione, precarietà e malaffare. Le oltre 100 realtà che hanno aderito al Calabria Day, ha detto la presidente di Oreste in Calabria, Anna Laura Onrico, sono la testimonianza che una Calabria diversa da quella che solitamente leggiamo e vediamo esiste già. Per questo è sempre più importante incontrarsi e costruire progetti insieme, ha concluso Anna Laura Onrico, superando individualismi negativi che limitano la rinascita di questa regione.